Ciao a tutti, sono io, codplayer1995, e sono in compagnia di un ragazzo, Stitch, chiamatemi Stitch, ciao Stitch, quindi quest'oggi faremo Il fantasma che dà la caccia a Tizio20, perché io sarò sempre morto e lo aiuterò E quindi, bella a tutti ragazzi, sono FabiJ Allora, clicchi la bussola, la bussola? La bussola, clicchi la bussola Tizio, mi fai toccare il torte di comando? No, la bussola, no, ok, la bussola Sprite, team of two, e vai sul tre, sul due, sul due, è two Guarda Tizio, vieni da questo qua, CM22, che penso sia la lunghezza del suo cazzo, vieni E centimetri 22, questo qua Ma perché si gira? Ecco, questo, vedi, è un cane Se questo qui lo bruciamo con la lava, diventa un? Non lo so, fa ridere Hot dog Non sei una persona raccomand... Oh, no, no, girati, 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 che culo, no, girati, girati, gira Oddio, ma perché mi sembra andare più veloce? Perché è una speedwalk, oddio, santissimo Abbiamo trovato un tempio, sai cosa vuol dire? Oro, mele, diamanti Attento che al centro c'è la TNT, se esplodi muori O-A, o-Ana, adesso quando c'è un... dobbiamo fare così, diciamo, o-Ana Oppure, o-Ana, tutto aspirato, o-Ana Hai mai visto il video quello dell'ansia, del baffo? Sì, il tipo che sbaffa... Attento alla piattaformina, non la cliccare, non la cliccare, non la cliccare, ok Posso venire tranquillo? Puoi scendere, puoi scendere No, stai su, anzi, stai su, prendi il legno, prendi il legno, prendi il legno Infatti? Vado a prendere il legno Io risalgo su, perché sono... Oh, due diamanti! Rega, abbiamo bing! Hai due diamanti? Aspetta! Quello che aveva scritto in chat Centimetri, sei centimetri 22 quello di prima Let's build a dog out C'è un coniglio bianco, inseguiamolo Ci porterai in un mondo... No! Oh, Ana, non volevo dirtelo, ma ho appena trovato un altro tempio Ma veramente? Dabbo Lo giuro, ho trovato un altro tempio, no? Quanto sono figo da una 13 in 13? No, fai i 12 che è il livello dove si trovano i diamanti Oltre i due diamanti per te? Ho trovato altri due diamanti e protezione Sì, sto trovando tante quella roba, però non ho cibo Io mi sa che mi mangerò... Sai qual è la migliore protezione che si usa da secoli? Quale? Il salto della quaglia! Oddio, ho sentito le mucche che dicevano Buuuu Ho trovato un altro tempio, comunque A 6,75 meno 170 Ho trovato tre tempi in 20 metri quadrati Oddio, ma quanta roba, quanto sono sculato Quanto sono sculato Altri tre diamanti Ho trovato un villaggio Oh, 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 oh Oh, lo sculo, che potente Ragazzi, questo video deve raggiungere minimo 400 like Solo perché io sono la persona più fortunata O mucche Della terra Ho trovato pane, tre mele Zì, zì Non puoi capire, non puoi capire, non puoi capire, non puoi capire Quante mele d'oro c'ho Non puoi... Allora, Tearles, se stai vedendo questo video Ho tre mele d'oro Se hai un'altra mela posso farne una quarta No, Tearles non guarda questo video perché c'è scritto l'occhi nel titolo Non è vero Andiamo sotto terra, andiamo sotto terra Sì, ho deciso che andiamo sotto terra Speed? Prova a dire il nuovo speed Speed? Sempre quello lì di Wolf of Wall Street che dice Steed No, no, qualcosa mi ha colpito e malvagissimo Oddio, la strega, non ci credo La strega mia... No, la strega è infame Non ci posso credere Mi ha lanciato la pozione di avvelenamento Per lei sono le pozioni Zì, mi ha lanciato la pozione di avvelenamento Quindi sei tipo a zero cuore Ah, c'è il mezzo Cazzo va, 25 anni? Ti ha detto, vieni che ho portato la pizza Sei raffreddata, ciò Sì, tipo E io ti do tutto l'oro e tutte le caramelle Sì, caramelle, mica, sono stati infettati da Pokémon Vedi, vedi? Lo sapevo Non lo fai abbastanza per noi Non lo faccio solo per me Non faccio come gli altri youtuber che portano Pokémon solamente perché va in tendenza Perché io voglio essere primo Oh, Ana Ascolti 16 secondi Trovi diamanti Trovi diamanti Trovi diamanti Che senso 16 secondi? Adesso inizia il deathmatch Si è scurito tutto Oh mio Dio No! No, aspetta No, non ho fatto tutta l'armatura in ferro Oddio, siamo morti Siamo mortissimi Sali Sali Fatti un pilone Sali Possiamo vincerla Possiamo vincerla Possiamo vincerla Basta giocarcela Veramente bene Hai mele? O qualcosa che assomiglia alle mele? O una testa di un nemico? O la testa di una mela Pensavo L'ho che stanno arrivando No, non ce li ho Ok, ok Dai, fatti l'armatura Adesso devi giocartela Se tu uccidi un nemico Quello ci droppa una testa Ok, questo l'ho scacciato via Ah, sei tu questo? Sì, ho paurissima Allora, c'è uno laggiù Ma c'è un fuoco amico? Seguimi Non c'è un fuoco amico Vieni, vieni Perché lo chiamo fuoco amico Quando non ci sono armi che si sparano Ma sta andando giù da quel tizio lì? Sì Dal tizio 19 Ok, l'ho stuprato L'ho stuprato Mamma mia, signore Allora, coprimi Devi coprirmi come se non ci fosse un domani Perché adesso con la sua testa posso farle mele d'oro Che mi possono servire per rigenerare la mia vita Come ho spiegato bene Allora Bravissima No, non chiudermi Ho paura Mi chiudono la lava e mi uccidono Ok, ho due mele d'oro Hai detto che ti dovevo coprire? Sì, ma non Grazie Oh, oh Alzati, alzati, alzati Fai un pilone, fai un pilone Fai un pilone, fai un pilone Fai un pilone, fai un pilone Subito C'ho le foglie Lì si sono chiusi malissimo Lava Serve lava Più lava Vieni con me, vieni con me Andiamo uccidere l'altro Arrivo, arrivo, arrivo Minchè, se non fosse per te Questa puntata sarebbe già andata Dai Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Guardalo, guardalo Si sta avvicinando a noi Sei pronto? 3, 2, 1 Addosso Per sparta Cosa? Ma dov'è? Qua dietro Tac 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 Oh, ci sono due diamanti Torna indietro, torna indietro Torna indietro Ma come ho fatto Trovare gli diamanti Vai su, vai su, vai su Pilone, 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 pilone Vai, corri Fai il pilone, fai il pilone E non riesco perché Vai, 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 vai Usa le hack, sto qua Oh, madonna, sono mortissimo O ce la giochiamo e li bruciamo O perdiamo O si stanno facendo le cose in oro Ce la giochiamo Ce la giochiamo 3, 2, 1, via Ok, 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 ok Oddio, ho un cuore, ho un cuore, ho un cuore No, sono morto Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi Ce la puoi Prendilo, 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 prendilo Dai Grande È la mia prima partita che ho È la mia prima partita che ce l'ha vinta Ok ragazzi, spero che questo video sulle speedwalk ci sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video tutti i giorni alle ore 18 E non l'ha, passate sotto in canale che c'è Passate sotto in descrizione che c'è il canale dei mollochi Tutti i social Ciao a tutti 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 Ciao a tutti